I disegni di Leonardo da Vinci prendono vita, anzi il volo, per una mostra allestita per la prima volta in Puglia nell'aeroporto di Bari il Carol Voitila. 40 esemplari magistralmente ricostruiti dai maestri artigiani del Museo di Leonardo di Firenze, seguendo gli schemi conservati nei codici vinciani. Dall'ornitottero verticale, ovvero l'antenato dell'elicottero, all'alleante ad alla fissa, macchine e macchinari ricostruiti e riproposti in un percorso che vede insieme i quattro elementi con un occhio di riguardo, come ci ha spiegato la curatrice della mostra, l'architetto Cristina Martina. Una location più adatta di questa non avremmo potuto trovare, giustamente, quindi l'aeroporto, il volo, Leonardo da Vinci e la sua vita spesa quasi totalmente per cercare di far volare l'uomo che c'era in lui. Una mostra aperta a chiunque si affacci in aeroporto fino al 30 settembre, uno sguardo al passato e uno al futuro più innovativo. Il futuro della Puglia è un futuro fatto di presenti innanzitutto, di numeri che crescono sia negli aeroporti che nell'aerospazio, quindi ci sono tutte le condizioni per cogliere le tante esperienze positive del passato che hanno permesso dei passi in avanti e credo che anche queste iniziative simbolicamente vogliono rappresentare la voglia di una Puglia innovativa che guarda avanti a nuove scommesse con ambizione e senza paura.